E' stata una bella serata, molto apprezzata dai Terramani. Sold out in Piazza Martiri a Teramo per un concerto d'eccezione con uno degli artisti più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Mario Biondi è stata la guest star del Paolo Di Sabatino Quartet. L'evento ha avuto una connotazione benefica poiché è finalizzato a sostenere la ricerca sul cancro. E' stato promosso e organizzato dal Comune di Teramo, dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli e dalla Fondazione AIRC Abruzzo e Molise. Circa 600 gli spettatori, sul palco anche il sindaco Gianguido D'Alberto che ha sottolineato l'eccezionalità del concerto, l'appuntamento più significativo dell'estate teramana, per due motivi, per l'eccellenza della proposta e per la sua finalità. La presenza di Mario Biondi a Teramo la si deve al musicista teramano Paolo Di Sabatino, grazie ad un'antica amicizia e una collaborazione tra i due mai venuta meno. La musica ha messo d'accordo proprio tutti. Tra gli spettatori anche il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, che dopo le feroci polemiche di quest'estate contro l'amministrazione comunale di Teramo e i suoi eventi, si è complimentato invece con il sindaco D'Alberto, in un abbraccio pacificatore.